Buonasera a tutti, l'argomento di oggi sarà il ruolo che ha assunto Capri durante la prima età imperiale e in particolare appunto durante l'impero, il principato di Augusto e di Tiberio poi è da permettere che molti risultati che seguiranno, che saranno presentati in questa sede derivano da un progetto di cui faccio parte, coordinato dalla soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli e finanziato dai comuni di Capri e di la creazione di una carta archeologica dell'isola, nel cui lavoro però ci sarà una trattazione della Capri preistorica, greca, romana e medievale a 360 gradi. L'argomento è particolarmente importante soprattutto appunto per il ruolo che Capri ha avuto durante le prime fasi imperiali. Noi sappiamo dalle fonti che Capri in realtà prima dell'arrivo di Augusto, di cui parlerò fra poco, non abbia avuto una particolare rilevanza. Sappiamo che Capri si presentava a Brulla anche fino a non molti secoli fa e non aveva risorse naturali, manca tutt'oggi, mancano fonti sorgive, fonti di acqua sorgiva, che quindi dono l'isola difficilmente abitabile. Però per questo però l'arrivo degli imperatori segna un passaggio fondamentale. E' tanto più importante vista la centralità che Capri assume, centralità seppur effimea, assume durante il regno di Tiberio. E' un passo di Plutarco credo che sia evocativo dell'importanza dell'isola in questo periodo. Dice Plutarco infatti Tiberio visse sette anni a Capri fino alla morte. Il principio direttore del mondo, centrato lì come in un cuore, non si spostò affatto per tutto questo tempo. Plutarco quindi, con questa metafora, fa capire come il cuore del mondo, dell'impero e dove c'è l'imperatore, e l'imperatore era a Capri dal 27 al 37 d.C. Come vi dicevo, noi possiamo circoscrivere l'elevazione dell'isola di Capri alla dignità imperiale, all'importanza che ha assunto grazie ad un evento prodigioso. Infatti Augusto, nel momento in cui tornava dall'Egitto, quindi dalla vittoria contro Marco Antonio e Cleopatra, passò per Capri. E a Capri, quindi entrò nel golfo di Napoli attraverso le bocche di Capri, e lì vide un leccio secolare, che era ormai secco, rinverdire. Sulla base di questo evento prodigioso, Augusto decide di prendere possesso dell'isola. Capri ce ne parla, ce ne parla in realtà, questo è Svetonio, ma ce ne parla in realtà strabone, il quale dice che l'isola di Capri divenne un idionctema, cioè una proprietà privata dell'imperatore. Vuol dire che l'isola di Capri, nel periodo compreso tra Augusto e Tiberi, ma anche dopo sostanzialmente, ma diciamo in questo periodo, Capri non viene interessato dalla costruzione di una villa, come poteva essere nelle altre zone della costa di Venica o Laziale, come per esempio è il caso del Pausillipon, una villa ereditata nel 20 a.C. da Augusto. L'intera isola diventa proprietà imperiale, questo è un fattore effettivamente fondamentale in una società che aveva visto, una società elitaria romana, diciamo dell'elite romana, che aveva visto tutta una serie di grandi personaggi occupare la costa campana, con queste ville d'Ozium, cioè ville in cui risiede nei momenti di pausa dagli affanni politici, l'imperatore Augusto, invece che scegliere una delle tante ville, decide di prendere possesso di un'intera isola. Un altro passaggio di un certo interesse è l'ultima parola, cartocodormesantos, che viene tradotta da Edoardo Federico nel volume Capri Antica con la perifesi copendola di costruzioni. Questo termine, a mio parere, è particolarmente importante perché ci fa comprendere come l'isola di Capri non avesse una vera e propria strutturazione non fosse particolarmente occupata dal punto di vista antropico e quindi per renderla abitabile dall'imperatore decise di costruire tutta una serie di edifici. Quindi Capri non è, o almeno non pare essere semplicemente luogo interessato dalla villa, per esempio Villa Iovis, la più imponente, o la villa di Palazzo a Mare, la villa più estesa, come vedremo che sono le due ville di cui parleremo, ma in realtà ci sono tutta una serie di costruzioni che possono essere a carattere residenziale ma anche a carattere funzionale, che furono disseminate su tutto il territorio dell'isola, creando un sistema di edifici. Però per poter comprendere questo sistema e anche le due ville di cui parliamo molto velocemente, è necessario anche comprendere come l'orografia del territorio di Capri non è così semplice. Capri è un'isola rocciosa ed è un'isola che ha numerose alture e l'unico punto in cui si può accedere, cosa che la rese appetibile per l'imperatore Tiberio, è il fatto che ci sia un solo porto, una sola insegnatura che permettesse di avere un vero e proprio porto, che è quello dell'attuale porto di Marina Grande. Mostro delle immagini trattate da Google Earth che ci permettono di capire, a chi diciamo non fosse mai stato a Capri, ci permettono di capire come si poteva accedere all'isola. Quindi in alto vedete il porto attuale e sulla sinistra invece era proprio a sinistra del porto attuale c'era quello antico e il centro di Capri invece è quello che vedete in alto, in realtà in basso a destra, che sarebbe una sella posta tra due alture. Da qui vedete ancora meglio una prospettiva da nord, quindi con il porto, il centro di Capri che si trova in alto a sinistra tra due selle, che sono quella dell'altura del Castiglione e quella del Monte San Michele. Sulla sinistra non si vede, ma diciamo più a sinistra c'è l'altura di Monte Tiberio su cui sorge Villa Iovis, invece in basso a destra c'è la villa di Palazzo Ammare. L'altura che si vede in alto a destra è quella di Monte Solaro, che separa l'abitato di Capri da quello di Anacapri, è un'altura invalicabile, non ci sono punti di accesso se non l'unico che si pone a ridosso di San Michele e di Anacapri. E qui vedete un'immagine dell'orografia di Capri, appunto sempre tratta da Google Earth. Quindi come, diciamo, si capisce molto bene, anche sulla base di quello che ho, diciamo, velocemente detto, che molti siti di Capri non sono facilmente accessibili se non attraverso una pianificazione viaria molto ben congeniata e sappiamo che i romani, in quanto a strade, non erano secondi a nessuno. Ed è per questo che, prima di individuare gli edifici a carattere residenziale che possono essere effettivamente, diciamo, appartenenti all'imperatore, dobbiamo anche capire come essi potevano essere raggiunti. E questo è un elemento di particolare importanza, di novità, a mio parere. E quindi vi ho segnato con i pallini rossi tutti quegli edifici che, a mio parere, possono essere relativi a ville imperiali, non solo perché ci sono strutture di una certa imponenza, ma anche per gli elementi scultori, decorativi e di altro genere che sono stati rinvenuti negli anni. Se uniamo i pallini, noi riusciamo a trovare un sistema tra diverse ville, un collegamento tra diverse ville. Ve ne mostro soltanto alcuni collegamenti che sono particolarmente interessanti perché derivano dall'accesso all'isola e quindi dal porto di Marina Grande già due residenze di un certo interesse si stagliano a ridosso appunto del porto. Uno è quello di Truio, che sarebbe il pallino però vicino alla scritta Marina Grande, che ha istituito delle evidenze archeologiche particolarmente importanti. L'antica via, l'unica via percorribile a piedi da Marina Grande verso l'abitato di Capri e via Truio, appunto, che arriva, parte proprio da questo luogo e sale verso Marucella, l'attuale diciamo contrada Marucella, dove delle importanti cisterne hanno sempre fatto pensare alla presenza imperiale. E poi da lì si può stare a Capri. Questa è un'antica via che esiste ancora oggi in parte, ma è l'unica percorribile per arrivare a Capri, tutta in salita. Dall'altra parte invece dove vedete Punta Vivara, il pallino su Punta Vivara, è l'enorme, grande villa di Palazzo al Mare, l'unica vera villa marittima che è presente a Capri. In prossimità della villa di Palazzo al Mare, vedete i tratti in rosso, le linee in rosso, è tracciata la scala Fenicia, una scala che è chiamata Fenicia a causa di una tradizione settecentesca, ma in realtà di fattura probabilmente greca o romana, purtroppo non è possibile saperlo, ma sicuramente questa è l'unica strada percorribile via terra per raggiungere l'intero occidentale dell'isola che è quello di Anacapri. Lungo il percorso, un diverticolo ancora in parte esistente, ma poi crollato a causa, in parte crollato a causa di una frana, permetteva di collegare questa scala con un sito a mezza costa che è chiamato Aiano di Sotto. Aiano di Sotto è una grande area che vedete in pratica tra le due linee rosse, profondamente scosceso, quindi con una difficile antropizzazione, ma proprio in quella zona delle ricognizioni recenti effettuati da me e dai colleghi ha permesso di rintracciare strutture murarie in opera reticolata, in opera incerta, che fanno pensare alla presenza di una villa che è stata vista nel Settecento e mai più vista nuovamente, una zona che attualmente è boschiva, difficilmente percorribile. Continuando a salire, invece, si arriva alle porte di Anacapri e si arriva quindi alla villa San Michele, costruita da Axelmunt, al di sopra di una villa romana, di cui restano ancora i resti, sono anche visitabili nella villa San Michele, appunto, di Axelmunt. Quali sono gli elementi che poi ci permettono di individuare o di ascrivere una residenza ad una proprietà imperiale, ci sono dei rinvenimenti che sono stati chiariti, soprattutto grazie ai nuovi studi in corso, per esempio la villa di Truio, a cui è stata data nuova dignità grazie all'invenimento di disegni ottocenteschi riguardanti l'invenimento del pavimento che oggi si trova a Capodimonte. Vedete in alto, vedete sulla sinistra, il pavimento appunto disegnato da Nicola D'Apù, l'architetto Nicola D'Apuzzo nel 1826, di una stanza appunto con questo splendido pavimento, asportato e poi reimpiegato. E sulla destra invece c'è contestualmente una colossale statua in marmo loricata che fu rinvenuta appunto durante lo stesso scavo e portata al Museo di Napoli, dove oggi si trova. La statua semisconosciuta, anzi praticamente sconosciuta, presenta delle vittorie che vestono un trofeo, adornano un trofeo. Da sottolineare che il trofeo utilizza le armi germaniche, quindi è possibile un collegamento, probabile collegamento con Tiberio. Salendo quindi Truio, Truio era collegata con Marucella, a Marucella, oltre a queste grandi cisterne, di cui non posso mostrarvi le immagini, ma sono delle colossali cisterne, fu rinvenuta una statua di Togato, poi diciamo a cui fu aggiunta una testa di Tiberio, che oggi si trova a Louvre, oltre a tutta una serie di altri rinvenimenti che noi sappiamo dalle fonti, ma purtroppo disperse, addirittura una testa in porfido, quindi diciamo una struttura sicuramente a carattere imperiale. Ma nella capri degli imperatori probabilmente non tutte le strutture erano ville, c'è stata una ricerca spasmodica di queste 12 ville, perché Tacito parla a proposito di Tiberio di 12 ville, quindi i vari studiosi, anche gli eruditi locali nel tempo hanno cercato con affanno di rinteracciare le famose 12 ville, che tra l'altro dovevano avere il nome delle 12 divinità, ma alcune strutture di particolare importanza erano invece infrastrutture, quindi a carattere funzionale. Ed è questo il caso del Monte Sambi, qui vedete una foto storica di inizio del inizio del novecento, nella quale, fino del ottocento inizio del novecento, in cui vedete come questa altura a forma conica aveva sulla sommità un sistema di cisterni, quattro cisterne enormi e a mezza costa aveva un anello di cisterne, diciamo erano sostruzioni cave utilizzate come cisterne. Tutte queste strutture ovviamente non possono far pensare in alcun modo ad una villa, ma probabilmente fanno pensare ad una infrastruttura, ad un grosso enorme acquedotto, anche perché il Monte San Michele sovrasta proprio l'abitato antico e guarda verso il versante meridionale dell'isola, quindi la zona di Tragara, Camerelle Tragara, che aveva bisogno, indubbiamente, di acqua, perché anzi in queste zone qui in realtà non sono neanche state trovate particolari tracce di cisterne, quindi vista l'assenza di acqua a Capri è logico pensare ad un grande acquedotto. ora alla villa invece di Palazzo a Mare, che come vi ho detto sorge sul lato settentrionale dell'isola, la villa di Palazzo a Mare è la villa più estesa di Capri, si estendeva per 800 metri in lunghezza, quindi dal porto fino ai cosiddetti bagni tibeli che vedete in basso a sinistra, che erano gli antichi quartieri marittimi della villa, e occupava l'unica zona pianeggiante in prossimità del mare, che poteva essere quindi sfruttata per la costruzione di una residenza di un certo prestigio. E vedete infatti anche una foto aerea, una foto satellitare, con a sinistra il porto antico, in realtà questa sarebbe la spiaggia di Marina Grande, dove sorgeva il porto antico di Capri, e i due riquadri, uno verde e un altro amazone, che sono i due campi sportivi, e il campo sportivo vecchio era quello più vicino alla costa, dove doveva essere il fulcro della villa, la Basisville. Gli unici rilievi che sono stati fatti fino ad ora sono quelli relativi a Medeo Maiuri, pubblicati nel 1938, e che ovviamente saranno aggiornati con la nuova carta archeologica, ma al momento questi sono gli unici elementi che possiamo analizzare. Ovviamente sono tutte strutture, quelle che vedete in nero più marcato, sono strutture antiche, ma purtroppo sono quasi tutte inglobate all'interno di edifici moderni. Tralasciando altri aspetti, visto che la villa di Palazzo a Mare, come anche Villa Iovis, sono particolarmente ricche, sia dal punto di vista architettonico, se dal punto di vista delle evidenze archeologiche che sono emerse, passiamo invece al quartiere centrale per tentare di decriptare un po' l'aspetto ideologico che la villa poteva avere in questo periodo. Il quartiere centrale che era costruito intorno a questo campo sportivo vecchio, come vi ho detto, che era stato interpretato, questa grande spianata che era inizialmente chiamata la piazza d'armi, cioè era un luogo in cui si esercitavano i soldati francesi durante la guerra tra Napoleone e gli inglesi, quindi durante l'occupazione anche dell'isola, e questa zona, questa grande spianata è stata individuata da Maiuri come uno Christus Viridarium, quindi come scrive qui. La zona era interessata da un fortino, nell'area più orientale, fortino che fu trasformato, quindi fortino francese, che fu poi trasformato in una villa da parte del pittore ungherese Antalan e poi successivamente da Mona Bismarck, quindi che dà anche il nome più recente della villa, Villa Bismarck, villa che al cui interno furono reimpiegati moltissimi elementi d'ornamento, soprattutto in marmo, che denunciano, declarano l'importanza della villa di Palazzo a mare. Uno fra tutti, proprio perché recentemente rintracciato, è presentato da me nell'ultimo convegno ISCOM di quest'anno, è un pavimento in marmo che utilizza, è impiegato nella villa Vivara, quindi reimpiegato, evidentemente trovato da Mona Bismarck, che è reimpiegato in questa villa Vivara, che faceva sempre parte del complesso edilizio, ma era una dependanza, che utilizza, tra l'altro un motivo non tanto comune nel repertorio degli opera sectilia di Capri, diciamo, del mondo romano e quindi utilizza queste croci di Sant'Andrea con i marmi più canonici, diciamo, per l'età augustea, che sono pavonarfetto giallo antico e africano, qui aggiunge il serpentino verde. Nella villa, e faccio un piccolo, una piccola parentesi sulla decorazione scultorea di questa villa, che però offre un importante esempio della, diciamo, della decorazione delle ville di Capri, che appunto fanno sistema fra loro, appunto questo elemento deriva dalla ricomposizione di un puteale frammentario, quello che vedete in alto, che faceva parte della collezione Bismarck, e che è riconducibile ai due famosi, è confrontabile con i due famosi puteali rinvenuti a Pilla Jovis, che oggi sta un museo archeologico di Napoli, che fu trovato nell'Ottocento, come vi dirò più avanti, ma presentano quindi un campionario che per la prima volta ora è più, un po' più ampio, leggermente più ampio, perché fanno sistema con un altro puteale che invece è stato di recente rintracciato tra gli invenimenti della Contra da Pozzo ad Anacapri, particolarmente importante perché quest'ultimo, che probabilmente si trova al Museo di Napoli, ma non è stato ancora rintrato, presenta una decorazione con ramoscelli di ulivo, che ovviamente anche questo rimanda a tutta una serie di elementi decorativi di Augustea, alla rapacis, alla floridezza, alla fertilità che porta dietro la politica di propaganda Augustea, e proprio i rami di ulivo si trovano in moltissimi esempi dell'arte Augustea, e quindi creano un vero e proprio campionario di quella che doveva essere la decorazione delle ville, che non era chiusa, diciamo, ognuna nelle singole ville, ma creava appunto un sistema di immagini all'interno delle diverse residenze. Il campo sportivo vecchio, come vi ho detto e che vedete qui, era un campo appunto di calcio, era, è stato individuato come, diciamo da sempre, come un grande spazio aperto adibito al giardino, che si confronta con alcuni dei più importanti giardini, o diciamo chiamati per i stili giardini, nella tradizione della letteratura archeologica, per i stili giardini che hanno, vedete, degli esempi di Villa Rianna a Stabbia, oppure nella Villa dei Papiri di Ercolano, il confronto migliore probabilmente però è la Villa Romana presso Capo di Massa in località Villa Zano, nella penisola sorrentina, nel comune di Massa Lubrense, e questi previstivi giardini in realtà erano dei grandi spazi aperti adibiti appunto al giardino, con porticati, potevano avere porticati nei lati, su uno o più lati, derivano come loro, come forma dai generasi ellenistici, quindi comunque hanno un legame stretto con il mondo ellenistico soprattutto, e anche con i regni ellenistici, e si ritrovano soprattutto nell'architettura residenziale romana, ovviamente di prestigio, a partire dal I secolo a.C. E uno dei confronti però più interessanti a mio parere è la Villa di Prima Porta, che fu costruita appunto fuori Roma, per volontà di Livia, e questa villa non è una vera e propria villa marittima, perché non si trova vicino al mare, ma si trova sull'ampia vallata del Tevere e quindi affacciata direttamente sul fiume, quindi idealmente potremmo ascriverla tra le ville marittime. Ma la cosa importante, qui vedete anche una ricostruzione da Clean del 2005. Vedete anche le sostituzioni poderose che aveva la villa, però per permettere questo aspetto panoramico, diciamo, per sfruttare l'aspetto panoramico. La villa di Livia fu costruita per, diciamo, sulla base di un evento prodigioso, che è quello di una gallina, appunto si chiama la villa di Gallina Salbas, viene chiamata, perché una gallina appunto avrebbe con in bocca un ramoscello di alloro, sarebbe stata deposta da un'aquila sul ventre di Livia e questo ramoscello piantato, sarebbe stato utilizzato poi, le fronde di questo albero, che poi sarebbe germogliato, cingevano le corone per il triunfo degli imperatori romani. Quindi è un evento prodigioso quello che permette di costruire la villa o comunque che dà senso al peristilio giardino della villa di Livia. Sì, molto probabilmente noi possiamo collegare la villa di Palazzo Amare, l'unica vera villa marittima, l'unica villa che poteva avere un peristilio giardino e che, come vedremo fra poco, è riconducibile ad Augusto. Un evento prodigioso aveva permesso ad Augusto di prendere possesso dell'isola e quindi di costruire una villa sulla base o comunque sulla spinta di questo evento prodigioso. Tanto più che le foglie dell'Elce erano utilizzate, i rami dell'Elce, erano utilizzati per la corona civica che fu donata nel 27 a.C. ad Augusto. Quindi l'alloro da un lato, l'Elce, il Leccio, che è un tipo di quercia, dall'altro. Evidentemente in questo caso ancora una volta c'è un elemento pregnante della cultura politica di propaganda Augusto. E sappiamo tra l'altro che anche il segno di Vespasiano fu caratterizzato da un collegamento con elementi vegetali, in questo caso con una quercia consacrata a Marte che germogliava ogni qual volta nasceva un'erede e seccava quando questi moriva. Quindi sono degli enti, come anche quello dell'alloro, della villa di Livia, legati alla fertilità e alla longevità della dinastia Giulio-Claudia, come probabilmente anche nel caso di Capri. Quindi probabilmente il prodigio di Capri si deve ascrivere a questo tipo di propaganda. E quindi a Capri, così come anche nella villa di Livia e in tantissimi altri aspetti, in altri luoghi legati all'imperatore Augusto, si viene a creare quel cosiddetto paesaggio mitologico, come è stato definito in passato, nel quale Augusto legittimava, con il quale Augusto legittimava il possesso dell'isola. Perché ricordiamo che Capri non aveva un passato storico, non aveva un passato venerando. Per la volta Virgilio canta le vicende di Ebalus, della ninfase Betis, e per la prima volta Augusto quindi dà dignità ad un'isola. E come lo fa? Non soltanto con l'Elce, ma Svetonio ci racconta anche, nel famoso passo legato alla morigeratezza di Augusto, racconta come Augusto non amava lo spazio nelle ville, ma preferiva i viali alberati, boschi, e a Capri in particolare decorò le sue ville non con grandi quadri, con statue, con oggetti quindi d'arte, ma con le ossa dei giganti e le armi degli eroi. Questo è stato, diciamo, variamente, questo passo è stato variamente studiato. Sappiamo che a Capri ci sono stati trovati resti di animali peristorici, che tra l'altro in questo interessante studio di Adrian Meyer si vede come le ossa dei mammut erano particolarmente simili a quelle dell'uomo, ovviamente però molto più grandi, e quindi potevano, nell'immaginario diciamo antico, potevano essere ricondotte a giganti del passato, di un passato mitico. Ma in realtà qui dobbiamo vedere soprattutto un'ideologia politica. Sappiamo come anche Pompeo avesse fatto trasportare da Marco Scauro le ossa del Ketos che si trovavano a Ioppe in Fenicia, Ketos sconfitto da Perseo secondo il mito, sappiamo come Cimone avesse riportato le ossa di Teseo da Lemno ad Atene, quindi diciamo anche in questo caso il ritrovamento di ossa del passato, di grandi eroi del passato era una strategia politica, quindi era un riappropriarsi di un passato mitologico che proprio a Capri era fondamentale. Poche parole sulla pass marittima, soprattutto per la sua imponenza, perché vedete nei rilievi fatti da Ferraioli all'epoca di Maiuri, vedete questa struttura enorme, gigantesca, forse diciamo dalle foto che vedremo più avanti si rende meglio l'idea, questa è la pianta con una struttura di fedra posta di fronte ad una grande piscina di cui restano alcuni resti, li vedete in basso a destra e vedete anche la foto dal fotolaterale in cui si vede la poderosità proprio della grande fedra alta oltre 10 metri e qui vedete una foto invece da mare molto interessante con le strutture di contenimento sulla sinistra del costone di Punta Vivara e la grande sedra in opera reticolata mista. Una foto storica invece vi mostra quello che ancora c'è ma diciamo nelle foto attuali verrebbe un po' male per la presenza di tutti, di imbarcazioni e varie altre cose, anche la vegetazione che è cresciuta, le basi delle colonne che permettono di ricostruire questa grande sedra in un modo particolare, cioè con una fronte porticata, una fronte colonnata di sei colonne più altre quattro in antis, cioè tra i muri e una serie di altre colonne invece doveva essere posizionata lungo due bracci laterali. Questa è una ricostruzione che ho potuto fare io, che verrà però migliorata con il nuovo progetto di carta archeologica, ma sostanzialmente vedete una ricostruzione di un quartiere marittimo particolarmente lussuoso che ricorda tantissime immagini di ville marittime o soprattutto di quartieri marittimi caratterizzati da queste fronti porticate, colonnate, in diretto contatto con il mare, quasi a immergersi nel mare. La datazione è un aspetto particolarmente importante dal momento che la villa può essere datata con una certa sicurezza, o il suo primo impianto può essere datato con una certa sicurezza, alla primissima età augustea, soprattutto grazie all'analisi dei capitelli. Quindi vedete questo tipo di capitello, di cui abbiamo diversi esempi in varie collezioni, che si confronta con un capitello invece rinvenuto nella villa del Pausillipon e un altro capitello unico nel suo genere, che rientra nella categoria dell'edicola architektur studiata da Enner von Esberg, che riguarda quei capitelli di età triunvirale, quindi siamo negli anni 40-30 e nei primissimi anni dell'impero di Augusto, caratterizzati da una sperimentazione nell'ordine corinzio dei capitelli romani. Qui vedete un confronto appunto tra le foglie d'accanto della corona dei due capitelli che abbiamo visto prima con il capitello del tempio di Apollo Palatino. L'imperatore Tiberio. L'imperatore Tiberio, come abbiamo detto, quindi abbiamo visto con questa carrellata molto veloce la presenza di Augusto a Capri, che è ovviamente molto più sfaccettata anche di quello che ho sintetizzato in questo momento, ma la presenza di Tiberio si pone in modo profondamente antitetico. Capri è stata collegata a Tiberio, dalle fonti letterarie, tarde, soprattutto in modo negativo, quindi Capri è stata adotta quale esempio della negatività di un imperatore, o diciamo di una politica imperiale, e anche poi nella storiografia successiva. La presenza però di Tiberio si pone in modo diverso rispetto a quello di Augusto, che diciamo io l'ho sintetizzato con l'antitetico Tiberio, perché nella letteratura, oltre alle vicende diciamo contingenti, l'arrivo di Tiberio, il passaggio in Campania, la sua fuga diciamo in Campania, poi il passaggio a Capri, tutti i vari eventi legati all'anno eccetera eccetera, tralasciando gli aspetti più propriamente della politica romana che ci sono tramandati dalle fonti letterarie, il soggiorno di Tiberio a Capri si pone in modo del tutto antitetico, cioè si leggono alcuni passaggi che sembrano quasi contraddire la presenza di Augusto, questo ovviamente sia per una retorica legata ovviamente alle fonti letterarie che erano indubbiamente Taci del Svetonio e scrivono alla fine del primo dopo, quindi diciamo ovviamente non vedono in modo positivo il periodo tiberiano, ma anche perché probabilmente c'era una presenza diversa di Tiberio a Capri, caratterizzata soprattutto dalla paura, cioè dal motivo per il quale è venuto a Capri, cioè la sua paura di essere assassinato, quindi la paura delle congiure, Capri fu scelta da Tiberio soprattutto perché era, come dice Tacito, era importuosa, non aveva porti, se non quello di Marina Grande ma non si poteva neanche definire porto, ed era difficilmente accessibile. Quindi il riparo perfetto per le paure di Tiberio, ma la vita a Capri di Tiberio era caratterizzata da una serie di oscenità e nefandezze che sono riguardate praticamente da tutti, sappiamo, vi porto soltanto un esempio di come Augusto amasse i giardini, passeggiare nei giardini, i giardini poi ornati con le armi degli eroi, come dicono le fonti, come Augusto vedeva Iefebi giocare ed esercitarsi, quindi come Augusto era parte integrante della città di Capri, dell'abitato di Capri, invece Tiberio usa i giardini invece per far prostituire i giovani, i stessi giovani che Augusto aveva visto invece esercitarsi, e i boschi erano ormai caratterizzati appunto da Tiberio, che prima di me ha chiamato ormai Capri Neus. E la presenza qui, diciamo, l'occupazione di Tiberio a Capri è caratterizzata soprattutto da una struttura che sintetizza la sua presenza, che è la villa, che noi conosciamo come villa Iovis, anche se c'è una tradizione filologica che in realtà la ricollega a Dio. infatti come qui è riportato, perché nella trascrizione probabilmente c'è stato un errore, quindi la villa Iovis è la villa di Io, ma lasciando questo, villa Iovis, l'edificio posto sul Monte Iberio, è un edificio arroccato, è un edificio nel quale probabilmente Augusto si era nascosto, come dice Svetonio, dopo la morte di Seiano. Quello che vedete, che oggi è visitabile perché fa parte del polo museale della Campania, e quindi villa Iovis, diciamo, speriamo fra poco sia nuovamente visitabile, come tutti i siti della cultura, villa Iovis è una struttura, è una villa, un edificio imponente, attualmente arriva a 35 metri di altezza, ma in passato doveva essere anche più alto, come vi dirò, ed ha un aspetto in realtà più di una fortezza che non di una villa, come vi farò poco. Vi ho detto che la villa sorgeva sulla punta orientale di Cari, era nota da sempre, già dal Cinquecento, ma sicuramente era già visibile anche prima, come si vede in questo schizzo di Fabio Giordano sullo finire del Cinquecento. Il primo che fece degli scavi sistematici a Villa Iovis, anche se altri furono fatti anche precedentemente nel Settecento, fu Norbert Adrava, il vero e proprio scopritore dell'archeologia caprese, di cui si riporta la pianta di Adrava con le dodici ville, il primo, o probabilmente il secondo in realtà, ma diciamo uno dei primi a sistematizzare le dodici ville di Tiberio, quelle che vedete in alto a sinistra. L'imponenza delle strutture di Villa Iovis hanno sempre dato adito a congetture e a fantastiche riproduzioni, ricostruzioni, come quella che vedete qui, una delle più famose, ridata da Weikert, Teresco Weikert all'inizio del Novecento. Dalla Villa i rinvenimenti non sono tantissimi, ma uno dei più interessanti è il puteale che vedete in questo dipinto di David Allen, che ritrae la collezione di Charles Stanley a Park Street a Londra, dove fu portato il puteale dopo l'acquisto da Diomede Carafa, questo puteale che tramanda una tradizione da Capri, diciamo che qualora provenisse da Villa Iovis, come è presumibile, incarna appieno quell'immagine che noi abbiamo da Svetonio, l'immagine di Tiberio che abbiamo da Svetonio, perché sul puteale sono rappresentate scene di violenza di Satiri verso Menadi e poi il mito di Eracle e Onfale. La villa di Villa Iovis, la villa di Giove, fu secondo gli studi scavata soprattutto da Maiuri, in realtà gli scavi di Maiuri eseguiti dal 1932-35 sono scavi piuttosto ridotti, questo è l'aspetto che aveva la villa prima degli scavi di Maiuri, quindi in realtà gli scavi più importanti furono fatti nell'Ottocento e queste notizie le possiamo desumere dalle più recenti ricerche archivistiche che sono in corso di pubblicazione, in cui vedete una pianta eseguita nel 1826 della villa di Giove, Villa Iovis, prima degli scavi di Feola del 1827-1828 e vedete che molte parti erano già emerse, già erano fuori terra e altre erano state scavate. Qui vedete due piante molto interessanti perché ci fanno capire dove furono rinvenuti i vari elementi scultori, quindi vedete il vestibolo che fu scavato nel 1824 dal colono che lì si trovava e poi le fede semicircolare dei quartieri orientali dove furono trovati i due puteali e quelli che vi ho già mostrato precedentemente e un rilievo cosiddetto della cavalca. A fine scavi nel 1828 fu redatta questa pianta che fa capire come gran parte della villa fosse ormai stata scavata. Addirittura abbiamo anche un disegno del puteale che fu rinvenuto e che oggi si trova al Museo Nazionale di Napoli e subito dopo gli scavi furono eseguiti dei disegni e delle incisioni, da cui furono tratte le incisioni, per la realizzazione di quest'opera monumentale che era Le antiche ruine di Capri, realizzata da Francesco Alvino e Bernardo Quaranta, un'opera purtroppo incompiuta perché fu pubblicato soltanto il primo volume e vedete quanto della villa era già emersa. Alvino pubblicò anche due tavole riassuntive dei rinvenimenti, non senza errori perché benché molti di questi elementi che vedete sono stati ormai studiati e ritrovati, uno di questi, quello che vedete in alto, la statua loricata, è la stessa statua che abbiamo visto precedentemente perché in realtà non viene da Villa Jovis ma viene da Trujillo e invece l'altro che è stato di recente rintracciato si trova a Berlino, una statua di Diadumen, una statuetta di Diadumen. La villa è stata interessata negli ultimi anni da ricerche sistematiche da parte di Clemens Krauss che ha pubblicato prima in tedesco e poi in italiano un volume fondamentale per la storia del sito e ne ha studiato la strutturazione architettonica e anche le fasi edilizie. La villa si costruisce intorno, si articola intorno a quattro grandi cisterne che sono poste nel mezzo. Gli ambienti sono, le aree sono ben distinte, quindi da un lato avete le terme sulla destra, passo avete i quartieri servili, tutti questi ambienti posti a pettine, molto piccoli, sulla sinistra i quartieri imperiali, i quartieri residenziali e in alto i quartieri di rappresentanza perché dovete immaginare che Villa Iovis venne costruita soprattutto per accogliere l'imperatore Tiberio e tutto il suo seguito e per assolvere tutte le funzioni anche politiche, amministrative dell'impero perché Tiberio visse a capi per ben dieci anni continuativamente, tranne piccoli intervalli. La situazione che noi abbiamo oggi in realtà non è completa, soprattutto perché gli ambienti che possediamo sono molto ridotti come spazio, non permettono di avere quegli elementi costruttivi tipici, architettonici tipici di una villa imperiale ed è per questo che Clemens Krauss, ma anche altri prima di lui, hanno immaginato che sul piano superiore, quindi al di sopra, sul sesto livello della villa, dovrebbe esserci un grande peristilio con altri ambienti. La ricostruzione che vedete qui poi interessa anche altre zone, altri elementi annessi alla residenza, cioè in basso del faro, in realtà la specula, cioè la struttura che permetteva di mandare messaggi in codice direttamente da capri alla penisola sorgentina e quindi con un sistema di fari, quindi specule, di fare segnare visivi con le luci, con la luce o con il fumo e di collegare capri direttamente con Roma. Invece la grande struttura che vedete a sinistra è lo speculario, quello che si chiama oggi speculario, in realtà il vero e proprio faro dell'isola di Capri cantato tra l'altro dalle fonti letterarie. Vedete una ricostruzione splendida e verosimile di Villa Iovis, come potete vedere, ha l'aspetto più di una fortezza, quindi un palazzo veramente, infatti si parla, Clemens Krauss parla per Villa Iovis di un palazzo e non di una villa. Era un edificio a carattere residenziale sicuramente, ma a carattere amministrativo. L'aspetto poi della fortezza, diciamo, ovviamente è una suggestione legata soprattutto al fatto che la Villa Iovis sorgeva su un'altura piuttosto isolata e quindi incarnava le paure di Tiberio. Concludo con un aspetto interessante della Villa Iovis, cioè del quartiere orientale, che a mio parere è la zona più antica, la prima, la zona del primo impianto di Villa Iovis, poiché la tecnica muraria di Villa Iovis è quasi interamente costituita da l'opera incerta, quindi l'opera mista, quindi incerto più laterizio oppure ridicolato più laterizio. Qui invece, quindi le testate dei muri sono praticamente sempre indete soprattutto da questa foto, quindi in basso a sinistra vedete i tufelli, quindi blocchetti in tufo, in tufo giallo, e il paramento che fu posto a ridosso della parete rocciosa, quindi che vedete in fondo, è tutto in opera reticolata. E anche da qui vedete l'opera reticolata che sostituisce quasi integralmente l'opera incerta o l'opera o l'aterizio. Questo è un elemento, a mio parere, che parla a favore di un primo impianto augusteo della villa, o comunque un primo impianto che si deve localizzare nel quartiere orientale, a cui poi è seguito tutta la struttura che conosciamo. Qui vedete alcuni ambienti di Villa Iovis, come vi ho detto che è fruibile, magari dopo la pandemia, e vedete le tecniche murarie utilizzate. Concludo quindi con una piccola riflessione che riguarda soprattutto appunto il ruolo di Capri. Come vi ho detto, quindi ritorno a quello che ho detto in premessa, cioè l'isola di Capri non è l'isola di Tiberio, non è l'isola di Villa Iovis, e non è neanche l'isola di Augusto a Palazzo a Mare o in qualunque altra villa vogliamo collocare Augusto. Capri è il centro di una sorta di sperimentazione di un'occupazione da parte dei primi due imperatori, siamo in una fase anche di formazione dell'impero, non ci dimentichiamo che Augusto è il primo imperatore, quindi siamo in una fase di sperimentazione edilizia che a Capri, nonostante le grandissime difficoltà dovute alla continuità di occupazione, anche dalla fama che Capri ha dal punto di vista turistico attualmente, però noi possiamo leggere questa fase di sperimentazione degli edifici dal punto di vista architettonico ma possiamo anche vedere un sistema ragionato di occupazione del territorio che è particolarmente suggestivo soprattutto per il ruolo che ho detto in premessa, un ruolo effimero ma un ruolo di centralità nell'ambito dell'impero romano. Grazie a tutti!